Buongiorno a tutti e a tutti, ora parliamo dei farmaci antiepilettici. Allora, innanzitutto c'è da dire che l'epilessia è stato visto che come localizzazione può partire da un'area che è chiamata area tempestas, che si trova a livello della corteccia periforme e questa area tempestas in realtà è stata proprio individuata nell'uomo recentemente, già in precedenza era stata vista su animali, poi appunto è stata individuata e a quanto pare questa è una delle aree di origine principali dell'epilessia. Di solito dobbiamo tenere conto di alcune definizioni. Innanzitutto dobbiamo dire cos'è una crisi epilettica. La crisi epilettica è un'alterazione transitoria del comportamento di un individuo dove ci sarà una scarica patologica sincrona e ritmica dei neuroni cerebrali e l'epilessia quindi non è nient'altro che il manifestarsi di queste crisi epilettiche in maniera periodica. Abbiamo diversi tipi, le epilessie indotte da farmaci, perché si chiamano così? Perché appunto ci sono dei farmaci che possono abbassare la solia epilettica come la clozapina, che abbiamo già visto in precedenza. Poi ci sono quelle parziali o focali e quelle generalizzate. Allora, la differenza qual è? Qui purtroppo nell'immagine si vede molto bene, ma questo dovrebbe essere i due emisferi cerebrali e come vedete c'è un puntino blu. Qui significa che nelle scariche parziali, nelle epilessie parziali, abbiamo il coinvolgimento di un'area singola della corteccia. Quindi di solito localizzata a livello di un emisfero e sono suddivise in semplici, in complesse e in secondarie generalizzate. Mentre quelle generalizzate, vedete, colpisce tutte e due le emisferi, in realtà c'è una scarica reciproca tra il talamo e la corteccia. Adesso, per quanto riguarda quelle parziali o focali, sono suddivise in semplici, complesse e secondariamente generalizzate. Come abbiamo detto, sono localizzate in un'area della corteccia, non hanno nessuna correlazione con la genetica, a differenza di quelle generalizzate, che si presentano con una etiologia pure ereditaria. Questi tipi di crisi parziali sono soprattutto dovute a ictus, tumori, lesioni e non solo, comunque diciamo più cause esogene. Per quanto riguarda quelle semplici, sono caratterizzate dal mantenimento della coscienza, quindi comunque c'è un mantenimento dello stato conscio, perché c'è una minima diffusione della scarica. Poi all'elettroencefalogramma, vedremo degli spike, quindi sarebbero, se ricordate da fisiologia, sono delle scariche anomale, se vogliamo così dire, dei picchi, in un'area ben specifica della corteccia. E possiamo avere manifestazioni di tipo sensoriale o manifestazioni di tipo motorio. Mentre per quanto riguarda quelle complesse, di solito queste si caratterizzano dal fatto di presentare dapprima un aura, cioè il paziente sente e percepisce che sta arrivando la crisi epilettica. E quindi si differenziano dalle semplici. E inoltre spesso ha una manifestazione molto più ampia e talvolta può essere poi bilaterale. Inoltre ci sono delle alterazioni dello stato di coscienza con dei movimenti definiti afinalistici e all'elettroencefalogramma, siccome si localizzano soprattutto nel lobo temporale e nella corteccia orbito frontale, vengono anche definite di solito, insomma, epilessie del lobo temporale. Poi quelle parziali secondariamente generalizzate iniziano come delle scariche semplici, ma poi evolvono generalmente in generalizzate tonico-coloniche, che invece sono di altro tipo, che vedremo nelle generalizzate, e sono caratterizzate, quindi queste secondariamente generalizzate, da uno stato di perdita della coscienza. Per quanto riguarda quelle generalizzate, quindi derivano da, c'è una scarica reciproca tra il talamo e la corteccia, e quindi ci sarà la diffusione nei due emisferi. Come vedete qui, questo è il DNA, quindi vuol dire che, vabbè, c'è una caratterizzazione genetica, e le suddividiamo in tonico-cloniche, assenza, miocloniche e atoniche. Per quanto riguarda quelle tonico-cloniche, sono definite del grande male, perché, vabbè, sono le peggiori, quindi è stato utilizzato questo tipo di nome, e sono caratterizzate da una fase prodromica, che è l'aura, quindi immaginiamo che sente il paziente arrivare questa scarica, all'inizio si ha uno stato di rigidità tonica, qui vedete, ho disegnato una persona che prima è tutta rigida, e poi di clonia, quindi presenterà una fase clonica, per questo motivo si chiama tonico-clonica. All'elettroencefalogramma avremmo delle scariche a punta costante, mentre per quanto riguarda le crisi di assenza, sono le crisi del piccolo male, anche definite, e in particolare, sono caratterizzate da un'alterazione dello stato di coscienza, dalla fissità dello sguardo, che è una cosa molto frequente, infatti, di solito, questo nei bambini può accadere, per esempio, mentre sono a scuola, i maestri, la maestra, insomma, se ne accorge che questo bambino guarda il vuoto, e non risponde a quando viene chiamato, quindi, spesso, questo è il sintomo, no, di questi tipi di epilessive, e, dal punto di vista dell'elettroencefalogramma, ci sono delle scariche a punta onda a 3 Hz. Poi, per quanto riguarda, invece, quelle miocloniche, abbiamo un arto, solitamente, che si contrae, in maniera anomala, ovviamente, e quelle, invece, di tipo atoniche, sono date dal fatto che ci sono questi pazienti che perdono il tono posturale e cadono. Qual è il trattamento farmacologico dell'epilessia? Allora, di solito, l'antipilettico ideale, che non esiste, dovrebbe controllare totalmente le crisi e ridurre gli effetti collaterali, ma questo, purtroppo, non c'è, ma i farmaci che abbiamo ora possono limitare la scarica, in diverso modo. ci sono cinque meccanismi principali e possono inibire, per esempio, i canali del sodio portaggio dipendenti, quindi il sodio serve proprio per la trasmissione neuronale, per l'eccitazione, quindi, inibendolo, cercano di evitare che ci sia una troppa eccitazione neuronale. Poi ci sarà un aumento dell'inibizione sinaptica, mediata dal GABA, quindi grazie all'aumento del GABA possiamo inibire questa iper-eccitazione nervosa. poi vengono inibite anche i canali del calcio portaggio dipendenti di tipo T, oppure ci sarà una riduzione dell'attività eccitatore del glutammato e ci sarà anche un'attivazione dei canali, diciamo questo un po' più specifico, potassio portaggio dipendente, chiamati KC-NQ2E3. Vabbè. Comunque la cosa principale da ricordare è i meccanismi neurochimici, perché di solito l'epilessia è caratterizzata da un aumento del glutammato e dall'inibizione del GABA. Che cosa accade? Allora, questi numeri indicano praticamente le alterazioni che avvengono. Allora, la prima cosa che può accadere per cui si ha l'epilessia è per esempio un aumento del rilascio del glutammato. Un'altra cosa invece, numero due, è un aumento dei recettori del glutammato, che sono gli NMDA, i lampa e i gainato. Oppure, ci può essere un aumento della trasformazione del glutammato da parte della glutammina in glutammato. Quindi, per esempio, viene iper, se vogliamo dire, rilasciata glutammina, quindi ci sarà più glutammato. Questo perché ci sarà un'alterazione a livello enzimatico. un'altra cosa che può accadere sarà un ridotto uptake di glutammato dagli astrociti. Quindi, questo è un carrier, questo è in nero. Immaginiamo che, se viene inibito il carrier, questo può accadere soprattutto nelle epilessie congenite, questa inibizione del carrier permette che più glutammato viene ad essere rilasciato perché la funzione principale del carrier è quella di andare comunque a moderare la presenza di glutammato nelle nostre cellule nervose. Quindi, funge da un po' modulatore. Un'altra cosa che può accadere è una ridotta trasformazione del glutammato in glutammina quando viene quando c'è il reuptake. Perché? Quindi, immaginiamo, esce il glutammato e c'è il reuptake e poi il glutammato entra nell'astrocita e deve essere riportato in glutammina. No? Poi la glutammina di nuovo diventa glutammato. Però questa, in questa fase, se abbiamo una ridotta trasformazione del glutammato in glutammina, allora vuol dire che ci sarà più glutammina che trasformerà glutammato e quindi siamo in un punto di non ritorno. Mentre, per quanto riguarda un altro meccanismo è quello di inibizione del GABA. Questo invece è importante perché dell'attività inibitoria del GABA, no? Il GABA, come abbiamo detto, si legherà a dei recettori che possono essere ionotropici di tipo A e metabotropici di tipo B. Allora, molti target, cioè, molti farmaci hanno i target specifici, soprattutto di un enzima che si chiama GABA-T che sarebbe la GABA transaminasi. la GABA transaminasi è molto importante perché se viene alterata, se viene praticamente inibita, ci sarà un aumento del GABA. Mentre, inoltre, ci può essere anche l'utilizzo meglio di farmaci che aumentano l'apputect del GABA a livello del vallo sinaptico. È importante sapere che molti farmaci ovviamente anti-epilettici ricordiamo legano il GABA. Mentre, ci sono dei pazienti che sono GABA resistenti, scusate, farmaco resistenti, che praticamente hanno un problema. Cioè, siccome non funziona bene, diciamo, il loro la captazione del farmaco, il cloro, anche se somministriamo GABA, invece di entrare nella cellula esce e quindi praticamente non si ha una risposta al farmaco e allora molti di questi pazienti spesso possono andare incontro a una degli interventi chirurgici e poi possono anche essere sottoposti le parti asportate di interventi di elettrofisiologia. allora, i farmaci antipilettici quale principio seguono? Legano soprattutto meglio hanno un'affinità quando c'è uno stato inattivato dei canali del sodio perché di solito questi canali entrano in uno stato inattivato quando c'è una iper eccitabilità quando quindi i canali del sodio sono sempre aperti di norma quando invece abbiamo un paziente senza epilessia comunque non accade questo stato di per eccitazione però i farmaci antipilettici sfruttano questa azione quindi si legano se vogliamo essere brevi e concisi allo stato inattivato dei canali del sodio e poi abbiamo detto che ci sono soprattutto per le assenze i farmaci agonisti del calcio allora abbiamo dei farmaci per le crisi parziali generalizzate tronicocloniche e poi vedremo ci sono dei farmaci per le assenze allora partiamo dalle crisi parziali e iniziamo dalla fenitoina la fenitoina è un farmaco antipilettico che non causa una depressione del sistema nervoso centrale come per esempio può accadere per le benzodiazepine a dose letali causa una tossicità quindi immaginiamoci un'iper eccitabilità quindi pericolosa mentre a dose letali può causare una rigidità di cerebrazione quindi veramente grave tant'è che è letale appunto e per quanto riguarda la sua azione va a ridurre la velocità di recupero da parte dei canali del sodio voltaggio dipendenti che quindi ha un effetto maggiore quando la membrana risulta essere depolarizzata poi per quanto riguarda la farmacogenetica è importante sapere che a basse dosi vedete questo grafico agisce come un farmaco un farmaco ordine 1 quindi a concentrazione base è un farmaco definito di ordine 1 a concentrazione alte di ordine 0 e il 90% di queste farmaci va a legare il 90% le proteine plasmatiche e ha un metabolismo epatico è importante dosare nel sangue la finitoina di solito la concentrazione plasmatica di 10-20 microgrammi su millilitro e valuta la concentrazione che permette a noi di mantenere comunque il farmaco in un certo range terapeutico quindi per evitare che ci siano sovradosaggi o comunque dosaggi sbagliati se invece per esempio voglio somministrare questi farmaci per via endovenosa posso utilizzare anche la fosfofenitoina che è un precursore poi tra l'effetto laterale abbiamo a livello cardiaco le artemie a livello cerebellare il nistagmo e la tassia disturbi anche comportamentali disturbi gastrointestinali iperplasia gengivale e irsudismo possono interagire con decitocromi tutti questi farmaci sono metabolizzati infatti della chip 2c9 o chip 2c10 e che aumentano la fenitoina nel sangue l'indicazione terapeutica è solo per le tonico-cloniche non per le assenze si può utilizzare anche come un farmaco per la nefragia del trigemino anche se il farmaco di prima scelta è la carbamazepina poi abbiamo il fenobarbital che è un barbiturico ed è il primo farmaco antipilettico stato messo in commercio ed ha una minore tossicità rispetto agli altri barbiturici la sua azione di solito è importante perché va a interagire con il recettore del GABA e a dosi basse ha un effetto all'osterico quindi lega soprattutto il GABA mentre a dosi alte può avere un effetto indipendente dal GABA quindi perde l'effetto all'osterico e può avere effetti collaterali come la perdita o meglio l'inibizione della respirazione poi dal punto di vista farmacocinetico il fenobarbital è assorbito per os quindi per violare e si lega al circa 40-50% 60% di proteine plasmatiche e il valore nel plasma è di 10-30 microgrammi su millilitro per quanto riguarda l'effetto collaterale abbiamo sedazione il stagmo ad assia a livello cerebellare nell'anziano può causare un effetto paradosso di agitazione questo può accadere anche con le benzodiazepine e un induttore enzimatico forse anche il più forte induttore e aumenta il metabolismo spesso di altri farmaci e a livello osseo causa osteomalacia è indicato quindi per le tonicocloniche non è indicato per le assenze la carbamazepina invece è un altro farmaco che ha una struttura simile a quella vedete dei triciclici quindi hanno tre anelli e hanno un'azione soprattutto di tipo sui canali del sodio voltaggio dipendenti nella fase inattiva e per quanto riguarda invece la farmacocinetica questi farmaci vengono assorbiti per osse e si distribuiscono a tutti i tessuti al 75% nelle proteine plasmatiche e inducono soprattutto un citocromo sono induttori dei citocromi in particolare un chip 3A4 che è importante perché a livello farmacologico può interagire soprattutto con i contraccettivi orali quindi se per esempio vengono presi questi contraccettivi insieme alla carbamazepina la carbamazepina ha una buona probabilità di ridurre l'efficacia dei contraccettivi la dose plasma S12 microgrammi su millilitro e come effetti collaterali da intossicazione cerebrale quindi stupore irritabilità oppure per esempio riduce il sonno causa adassia a livello epatico e pancreatico a causa delle alterazioni che portano a nauseo e vomito tossicità ematologica infatti porta ad anemia anaplastica e a granulocitosi e osinofilia da una reazione di persensibilità e ritenzione idrica con edema questo farmaco è scelto è utilizzato sia per meglio è un farmaco di scelta per le passate tonico-cloniche e per la nevragia del trigemino come dicevamo prima si può utilizzare anche nel disturbo bipolare e qui purtroppo non si legge però è il dolore etabetico che si manifesta nella sifilide poi abbiamo un altro altro farmaco come per esempio l'oxocarbazepina che è un analogo della carbamazepina è un profarmaco ha un'azione simile poi il primitone che invece è simile al fenobarbital sono farmaci diciamo usati ma minori rispetto agli altri poi abbiamo l'acido falproico che è utilizzato nelle azioni nelle crisi parziali generalizzate ma anche nelle assenze perché a livello delle parziali generalizzate agiscono sul sodio voltaggio dipendente nello stato di inattività mentre nelle assenze inibiscono i canali del calcio T simili soprattutto a dei farmaci che poi vedremo che sono lieto su cimidi che agiscono proprio su canali T quindi aumentano in generale il GABA a livello periferico perché inibiscono la GABA transaminasi e poi anche per esempio possono attivare altri comunque enzimi diciamo a parte questo quello che dobbiamo ricordare è soprattutto l'azione poi per quanto riguarda invece la comunque sarebbe la degarbossilasi e dell'acido glutambico questo altro enzima poi per quanto riguarda la farmacocinetica quindi assorbimento totale per os lega le proteine plasmatiche trasportato attivamente nella barriera metoncefalica quindi si accumula a livello cerebrale e 95% è metabolizzato a livello epatico e può essere dosato nel plasma 30-100 microgrammi su millilitro da soprattutto disturbi transitori dell'apparato gastrointestinale con anoressia per esempio e nausea e vomito a livello cerebrale cerebellare causa sedazione ed atassia e può portare un aumento degli enzimi epatici con epatite fulminante di solito è un farmaco d'ampio spettro infatti abbiamo detto viene utilizzato nelle generalizzate tonico-cloniche nelle assenze e nelle miocloniche per le assenze invece abbiamo oltre l'acido valproico abbiamo anche detto su cimidi in particolare le benzodiazepine che legano i canali del calcio voltaggio dipendenti chiamati LVA che hanno un ruolo soprattutto nell'eccitabilità neuronale e ricordiamo che esiste anche un altro tipo di canale che però non viene convolto che è l'HVI che rilascia dei neurotrasmettitori che permettono l'ingresso di calcio nei terminali sinattici e hanno la funzione di far fondere le vescicole contenenti magari neurotrasmettitori con le membrane sinaptiche comunque abbiamo lieto su cimidi che sono utilizzate per le assenze riducono la corrente calcio dipendente T quindi nel talamo come dicevamo prima e invece non inibiscono la risposta del sodio cioè i canali del sodio poi a lungo termine possono dare tolleranza e per quanto riguarda la farmacocinetica sono assorbiti totalmente per OS con un picco di tre ore sono iscrete nelle urine il 75% a quanto pare ancora questo da verificare totalmente viene metabolizzato insomma viene iscreto tramite il fegato un metabolismo dei citocromi a un'emivita di 40 ore nell'adulto e di 30 nel bambino e la sodose plasmatica è tra 40 e 100 microgrammi su millilitro gli effetti collaterali sono nausea vomito onoressia vertigini come diciamo tutti gli altri farmaci e vengono utilizzati solo per le assenze infine qui abbiamo le benzodiazepine ovviamente abbiamo visto già prima ma in particolare vengono trattate con il clonazepam e con la diazepam che aumentano l'effetto allosterico sul GABA vengono somministrati per OS 99% legano le proteine plasmatiche e soprattutto il diazepam ha un'emivita di 1-2 giorni come effetti collaterali possono dare sonno raramente raramente la tassia e l'indicazione terapeutica è allora il clonazepam in particolare viene utilizzato nel bambino nelle epilessie con assenze o miocloniche mentre si può starare una tolleranza effetti anticonvulsivanti dopo circa 1-6 mesi il diazepam e lo razepam anche possono essere utilizzati nello stato di male epilettico ricordiamoci che le benzodiazepine non vanno mai sospese di botto altrimenti si ha la crisi di grande male tra gli altri farmaci velocemente abbiamo la gabapentina leviracetam e la lamotrigina la gabapentina ha una struttura importante presenta una molecola di GABA ma non hanno attività GABA agonista e legano soprattutto subunità del calcio sono dei farmaci liposolubili con assorbimento molto rapido a livello della barriera hematoencefalica e un'emivita di 6 ore le loro effetti collaterali sono sonno vertigine ad assia e diciamo che si comporta come gli altri farmaci ed è utilizzato soprattutto per le pelissie parziali generalizzate e poi c'è il leviracetam che lega una proteina vescicolare sinattica che si chiama sv2a che lega a sua volta la sinaptogammina che regola le socitose di calcio e impedisce la conduzione dell'impulso attraverso le sinapsi viene assorbito totalmente per os e ha un'emivita di 24 ore e il 95% viene iscritto con le urine può causare sonno e vertigini infine la lamotrigina ha il ruolo di inibire la scarica ripetitiva di neuroni a livello dei neuroni per il blocco del sodio voltaggio dipendente quindi riduce il glutamato liberato ed è ad ampio spettro viene somministrato e assorbito per os quindi per via orale e ha un'emivita di 24-30 ore di solito è metabolizzato tramite dei meccanismi di glucuronoconjugazione tra gli effetti collaterali abbiamo vertigini disturbi gastrointestinali di nausea e vomito